Ancora in gioco, pulisce la tre quarti evitando guai peggiori, Puzzano Doi, ha spazio per tirare, e c'è il gol, palla in rete! Gli sono bastati pochi minuti per lasciare la sua impronta sul match, mai cambio fu più azzeccato! Un bel gol, considerato anche che l'ha tirato con il piede meno forte, e non era una conclusione facile per lui. Grazie per la visione! Grazie per la visione!